Fanno male alle nuvole. Siamo quattro studenti che si sono schiariti la voce per urlare da youtube contro la nuvola nera delle piogge acide, dei detersivi vaganti sull'acqua che fanno male alle nuvole, delle montagne di rifiuti e dei prati di cemento. Le stagioni sono alterate, le temperature squilibrate. I frutti della terra sono sempre più insufficienti e privi di valore nutritivo. Come gabbiani che fuggono ad ali distese verso le città, siamo in volo verso il pianeta speranza. Ma che cosa accadrà? Commento? Accadrà quello che accade da sempre. La realtà non fallirà e l'umanità ne avrà uno scatto di coscienza in più che, come sempre, inizia dal singolo individuo.